Salve a tutti amici di Marcosbox, ben ritrovati nel consueto appuntamento settimanale con il rassunto delle notizie postate su Marcosbox da me e dai miei amici durante il corso della settimana. Ultimo video dell'anno, questo qui un video che sarà più breve del solito perché comunque c'è stata di mezzo la settimana delle feste quindi non ci sono state tante notizie da pubblicare. Cominciamo con la prima notizia, la prima notizia è una notizia che ha messo l'acquolina in bocca a molti di voi, ovvero l'annuncio da parte di Daily Targa della commercializzazione del Sputnik 3, conosciuto anche come XPS 13 Developer Edition. Che cos'è? È un ultrabook con prestazioni al top e equipaggiato con Ubuntu 12.04. Struviamo un po' le caratteristiche di questo Sputnik 3. La caratteristica è che praticamente ha un Intel Core i7 di quarta generazione quindi fino a 3 GHz quindi potenza da vendere. Il display è un 13,3 pollici con tecnologia touchscreen, per raggiungere di tutti quanti quelli che vogliono toccare, con risoluzione full HD 1920x1080, tastiera retroilluminata, stile Mac, direbbe qualcuno. RAM, soltanto questo è un po', diciamo hanno messo il minimo sindacale perché hanno messo 8 GB di RAM DDR3. La scheda grafica è un Intel Graphic HD da 4440, che può essere anche, si può avere anche l'HD 5000 nel versione Enterprise. L'hard disk è un SSD da 256 GB, batteria a 6 cellule, appunto la presenza di Ubuntu 12.04 GTS, ottimizzato, diciamo con qualche modifica da parte di Dell per meglio, per meglio renderlo performante su questa macchina. Il prezzo, il prezzo attualmente di 1039 euro più IVA, più spese di spedizione. Mettendo l'IVA al 22% sarebbero circa 1268 euro, va, a cui va poi aggiunto il costo delle spese di spedizione. Ad averci i soldi, il pensierino francamente glielo farei perché comunque è un signor, signor Ultrabook, che poi si è utilizzato per tantissimi ambiti. Secondo articolo della settimana è la solita rubrica di Marco Persi, le frustrazioni del Persi. Marco, come ben sapete, Marco Persi analizza alcune distribuzioni Linux e andando a vedere quali sono un po' le caratteristiche salienti, andando a scontrarsi con quello che offre questi distro. Sotto la sua lente di osservazione, questa volta, c'è capitata Sabayon, versione 14.01. Sabayon che cos'è? Sabayon è una distribuzione made in Italy, basata su Gento. Gento, si dice così, si dice così. In questa sua recensione, Marco Persi si è scontrato con alcune caratteristiche non tanto sensate di questa distro. praticamente nella versione DVD è presente tutto, è presente la sessione Steam Big Picture, XBMC, chi più ne ha più ne metta, praticamente. Che c'è? Caratteristiche principali, la presenza di Anaconda, la vecchia versione come installer, che, tutto sommato, fa il suo dovere. La versione con Gnome ha Gnome 3.10.1. Come web browser predefinito troviamo Chromium, quattro emulatori di Terminali e altre emulità strane che sono state messe. Leggetevi la recensione di Marco Persi, leggetevi la pagella che ha postato come di consueto e traete le vostre conclusioni, magari lasciate un commento se a voi piace o se a voi non piace. Ritorna questa settimana la rubrica Lavorare con Linux. Questa settimana ho avuto il piacere di intervistare Alessandro Roncone, conosciuto dei più su Google Plus, sui social network, su DeviantArt e quant'altro, con il nickname Alessive. Chi è Roncone? Roncone è l'autore, ve lo ricorderete delle famose icone Avoken e anche Kavoken, icone che sono tanto apprezzate da moltissimi utenti Linux. Alessandro che cosa fa nella vita? Alessandro praticamente è uno studente, è un PHD student presso l'Istituto Italiano di Tecnologie di Genova, sta nel ramo della robotica. Andatevi a leggere la sua testimonianza di come è possibile lavorare con Linux, sia per quanto riguarda il suo ambito diciamo più strettamente accademico e lavorativo, sia per quanto riguarda anche il suo lavoro di grafico per la realizzazione del costruendo set di icone. Piccolo rilascio della settimana è stata la tua versione di Hawaii 0.2.0 che poi in settimana, cioè subito dopo è stata postata anche un piccolo aggiornamento, se non ricordo male. Praticamente che cos'è? L'ambiente grafico di Maui Linux di cui vi ho parlato nel blog nei precedenti mesi intervistando l'autore Pierluigi Fiorini. andate a recuperare l'intervista e andatevele a leggere. perché è molto interessante, è molto innovativa perché Hawaii fa uso di Wyland, di Weston, delle QT 5.2, comunque è un ottimo interessante lavoro. Gli ultimi due post della settimana sono due piccoli post che ho postato questa mattina giusto per per lasciare, per dare qualche minuto in più di chiacchierata, diciamo così. Il primo è il tema Product Blue. Che cos'è Product Blue? Non so se siete pratici di KDE Plus, ma se siete utenti di KDE da parecchi, conoscerete di certo il tema Product, anche conosciuto in Italia come Prodotto, che è appunto la traduzione. È un famoso tema scuro, molto apprezzato, che è anche la base del tema di Open Source. La versione originale, mi sa che se non ricordo male, era su grossiccio, cioè nel senso che l'effetto di bordino sulle finestre, e cose del genere, era su grossiccio. La versione per Open Source è verde. Questa versione, realizzata da un designer indipendente, è basata sulle tonalità del blu, quindi si abbina perfettamente con il blu, che troviamo di default ovunque su KDE. Questa versione la sto utilizzando da quando è uscita, praticamente. Mi piace, mi piace molto, perché appunto si abbina bene con il desktop. È un tema bello. L'ultima notizia della settimana, facciamo gli auguri, perché quest'oggi, o meglio, quest'oggi se lo vedete di sabato, compie gli anni, Linux Benedict Torvalds, il papà del kernel Linux, nasceva infatti 44 anni fa, il papà del kernel Linux. Facciamogli tutti quanti gli auguri, perché senza di lui noi non staremmo qui a parare di Linux. Con questo concluso, vi auguro di trascorrere un felice, sereno, fine anno, e vi auguro un stupendo 2014. Sperando appunto che il 2014 non sia come il 2013 che ci siamo lasciati le spalle, a me nel caso mio è stato un brutto anno. Appunto, mi raccomando, piccola cosa, non fate i cretini e i stupidi con i botti a fine anno. Sapete bene i rischi che si corrono, dita mozzate, braccia che saltano, gambe che saltano. L'avete visto in questi giorni che già ha iniziato qualcuno ad avere incidenti con i botti, quindi cazzo sparate a fare questi botti. Oltretutto, sono pericolosi e sono effimeri, fatemi una bella magnata, e danno fastidio, danno fastidio sia alle persone, ma danno fastidio soprattutto agli animali. Voi, Raki, il mio cuccio, aveva un po' il terrore dei botti, come tutti quanti gli animali domestici, e quando si trattava, quando c'erano i botti forti, si andava a nascondere, perché qui, soprattutto qui al sud, sembra che bisogna festeggiare peggio del capodanno cinese, con botti, ovunque, botti e spari, quindi, non lo fate, date fastidio, rischiate, rischiate, rischiate le menomazioni, voi e gli altri, perché poi ci sono i botti inesplosi, e date fastidio, agli animali. Bah, comunque, scusate il piccolo, le piccole paternali che vi ho fatto a fine video. A fine video vi lascio anche, non so se avete sentito la canzone all'inizio, What a Wonderful, in calcio vi linkerò il link appunto a questa canzone, se vi è piaciuta, l'avete sentita all'inizio del video, pensavo di riuscire a farla durare per tutti i video, avrò messo anche l'effetto shuffle, che doveva ripetere, però Spotify mi ha tradito. Gunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo l'anno prossimo, bye bye! Si spegne? Eccolo.